Amici di Terra Termini, ci troviamo al liceo scientifico statale Nicolo Palmeri di Termini Merese e in questi ultimi giorni di fine anno vogliamo parlare con la dirigente scolastica, la professoressa Marilena Lennoli, che subito ringraziamo per averci ospitato. Professoressa, buongiorno e grazie, ripeto ancora una volta, per averci ospitato. Siamo a pochi giorni dalla fine dell'anno, un anno sicuramente difficile, un anno di insediamento per quanto riguarda la sua presenza come dirigente scolastico, ma è stato davvero un anno difficile per colpa del coronavirus e quindi la didattica a distanza è stata fondamentale. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Tele Termini e grazie a te, caro Salvatore, per questa opportunità e per questa intervista. Sì, come ben dici, è stato un anno molto particolare. Io sono qui da un anno e qualche mese e devo dire che è stato un periodo sicuramente speciale per iniziare perché la pandemia ha connotato indubbiamente il mio primo periodo qui al Palmeri. Ciò non ha impedito comunque di effettuare tante belle esperienze sia in prima persona, ma soprattutto come rappresentante di questa istituzione scolastica. Se dobbiamo fare un bilancio dell'anno scorso, infatti è stato un anno sicuramente molto positivo, nel senso buono del termine, nonostante le difficoltà che si sono riscontrate. Quest'anno poi è iniziato più o meno sotto il segno del precedente, quindi con la didattica a distanza che ha fatto da motivo conduttore anche di questa prima parte dell'anno scolastico. E come sempre dico, sin dall'anno scolastico precedente, con tutte le difficoltà che anche la didattica a distanza comporta, però che ben venga e siamo grati all'esistenza di questi mezzi tecnologici che ci permettono comunque di erogare offerta formativa e ci permettono di non essere soli e di non lasciare soli i nostri ragazzi e quindi di essere sempre presenti come istituzione scolastica nelle vite e nella formazione dei nostri alunni. Come sapete quest'anno avevamo cominciato tendenzialmente in presenza, fra l'altro è rivenuto tu a fare qui un'intervista e ricordo di quell'intervista che io ero abbastanza preoccupata, giustamente sentivo le responsabilità di questo inizio d'anno, che è stato più difficile dello scorso, perché lo scorso almeno era iniziato con delle normalità, invece quest'anno si è già iniziati con una situazione che era ben delineata nella sua difficoltà e quindi ricordo proprio la preoccupazione, il senso di grande responsabilità di quei primi giorni, poi tutto è andato abbastanza bene, diciamo con la relatività dell'avverbio bene, insomma che può essere in questo periodo, e poi come sappiamo tutto è sfociato comunque nella didattica a distanza. Adesso dopo le vacanze, dopo le feste natalizie, rientreremo tendenzialmente in presenza, perché il DPCM del 3 dicembre prevede questo, poi da ultimo una nota del Ministero della Salute, prevede che rientreremo in presenza per il 50% dei ragazzi, e quindi ci stiamo organizzando affinché questo possa avvenire nel migliore dei modi. Professore, se adesso parliamo di questo 2021 per me alle porte, cosa c'è in progetto, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento? Sì, ora pensiamo anche al futuro naturalmente. Il piano triennale dell'offerta formativa del Palmeri non si ferma, anche in queste rinnovate condizioni dettate dalla situazione attuale, quindi abbiamo in previsione diverse progettualità. Naturalmente molte di queste progettualità vengono svolte online, perché questo è il modo consentito attualmente. E lo stesso avviene per l'orientamento, quindi anche per i nostri incontri di Open Day, quegli incontri che tradizionalmente sono stati in verità una festa in presenza, e che dobbiamo dire è un'altra cosa. Io ricordo, o tra i ricordi più belli dello scorso anno, queste giornate di scuola aperta, queste giornate veramente di gioia e di grande festa all'interno dell'istituzione scolastica. Quest'anno saranno effettuate online, come accennavo prima, e abbiamo già degli appuntamenti prestabiliti, che trovate sul nostro sito www.liceopalmeri.edu.it, che quest'anno in particolar modo è la vetrina della scuola più che gli altri anni, perché lì abbiamo fatto dei book, insomma dei lavori che permettono di compendiare quella che è l'offerta formativa della scuola. E lì trovate anche questi appuntamenti, che sono uno domani, 29 dicembre, in serale, quindi dalle 21 alle 23, in cui sarà fatta anche una specie di festa natalizia con i ragazzi, sempre ovviamente allo scopo di presentare l'offerta formativa dell'istituto. Poi un altro Open Day virtuale sarà svolto invece il 10 gennaio, pomeriggio e una domenica. Probabilmente ce ne sarà qualche altro, ma ripeto, troverete sul nostro sito tutte le informazioni. Come si svolgeranno? Attraverso dei tour virtuali nella nostra scuola, e attraverso la presentazione e la testimonianza da parte di docenti, ma anche di studenti, che come sapete sono poi il cuore, il fiore all'occhiello di ogni scuola. I nostri studenti che così attivamente partecipano anche all'orientamento per divulgare dal punto di vista più importante e più prezioso quello del fruitore, l'offerta formativa della scuola, che come tutti sapete si divide in due indirizzi, l'indirizzo ordinamentale e l'indirizzo di scienze applicate. Entrambi hanno una trasversalità del curriculum che si svolge tra l'area umanistica e l'area scientifica. Le peculiarità principali sono che l'ordinamentale ha la presenza del latino all'interno del suo curriculum, mentre in scienze applicate la presenza dell'informatica. Queste le caratteristiche salienti dei due indirizzi. Ma durante questi open day virtuali sarà possibile anche conoscere la tipicità dell'offerta formativa di questo liceo scientifico, perché a fronte di un curriculum che è comune per tutti i licei scientifici, naturalmente ogni istituzione scolastica ha poi le sue peculiarità, le sue particolarità, appunto che potrete ascoltare e conoscere meglio in questi appuntamenti di cui parlavo prima. Questo per quanto riguarda l'orientamento, poi nei prossimi mesi si svolgeranno altre progettualità, anche se appunto in forma diversa, come accennavo prima, daremo vita a dei PON, a dei moduli di alcuni PON, ma anche a tante altre progettualità, appunto diciamo nei prossimi mesi. Speriamo di fare anche quello che non siamo riusciti a fare l'anno scorso perché l'anno scorso la pandemia ci ha colti ovviamente impreparati, quindi alcune delle iniziative che erano state preparate poi per forza di cose sono state sospese, ma quest'anno abbiamo nuove modalità per poterle effettuare e quindi da questo punto di vista sì, sì, siamo più preparati. L'esperienza insegna e nelle difficoltà si cresce e si va avanti e quindi anche questo è stato ed è per noi questo momento di difficoltà, un modo per duttilmente andare avanti e portare avanti comunque sempre in maniera qualitativamente alta l'offerta formativa. E adesso per concludere nel luogo simbolico del liceo, davanti alla statua di Nicolò Palmeri e davanti a quell'albero di Natale che ci dà sicuramente tanta speranza. E alla professoressa Nello, ripeto, dirigente scolastica del liceo Nicolò Palmeri, vogliamo dargli la possibilità di fare gli auguri a tutti i ragazzi per sicuramente un nuovo anno, un 2021, che ci porti tanta sanità e tanto, tanto cambiamento. Sì, bellissime parole, Salvatore. Come dicevi tu, ci siamo trasferiti ora dal mio ufficio a questo posto veramente simbolico del liceo Palmeri, vicino alla statua di Nicolò Palmeri, luogo simbolo dove tutti i ragazzi diplomati fanno una foto, ad esempio. E siamo qua accanto ai simboli natalizi per augurare buone feste e buon anno. Simboli natalizi che quest'anno abbiamo voluto anche nonostante non ci fossero i ragazzi qui con noi. Però è stato un modo veramente per fare spirito natalizio ugualmente e per portare questo spirito natalizio virtualmente anche nelle case dei nostri alunni. Così, da parte non solo mia, ma di tutto il personale della scuola, del corpo docente e del personale ATA, che sempre ringrazio per la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro, a nome di tutti, quindi, porgo i più sentiti auguri di buone feste, ma anche di un buon anno nuovo, veramente nuovo, un anno in cui possiamo essere gioia e luce per noi stessi e per gli altri. Questi auguri li porgo a tutti i nostri studenti, a tutte le famiglie, a tutta la comunità scolastica e a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie e auguri.